Ben tornati ragazzi con il pallino 83 Oggi torniamo con Dirt Rally 2 Il mio gioco preferito ragazzi E andiamo a scoprire la vincitrice No non c'è nessuna vincitrice Sono le 7 di sera ragazzi E sono 5 pari Quindi io ragazzi Avevo intenzione di portare il Peugeot 205 T16 Evo 2 Una bella macchina Una tra le mie preferite Dei gruppi B ragazzi Una bestia Portiamo con questi colori qua Perché sono quelli originali ragazzi Vi ricordo di lasciare un like ragazzi E il pollicione che ho rivolto in su Che trovate sotto il video Iscrivetevi per chi non l'ha già fatto Attivate la campanella Per ricevere le notifiche ragazzi Instagram ragazzi Facebook Comunque troverete tutti i link Nella descrizione sottostante ragazzi Io vi consiglio di allacciare le cinture ragazzi E partiamo 5 4 3 2 1 Via Sinistra 6 80 Destra 5 80 Discesa Cunetta Appostamento Sinistra 6 Non tagliare 60 Destra 6 Lunga Su crinale Sinistra 6 60 Sinistra 6 60 Destra 6 60 Sinistra 6 Crinale Indestra 3 Lunga Attenzione Sinistra 5 Non tagliare Destra 4 Stai all'esterno 60 Su crinale Sinistra 4 Continua per 90 Attenzione Destra 6 In subito Tornante sinistro Salita Destra 4 E tornante destro In sinistra 6 Crinale Cunetta Destra 6 Su appostamento 60 Tornante sinistro Intorno all'albero 100 Salita Tornante destro Destra 6 Crinale 80 Sinistra 6 Media E attenzione Destra 6 Tornante sinistro 80 Su crinale E crinale Possibile salto Destra 6 60 Tornante destro 150 Piccolo Crinale Sinistra 6 Lunga Crinale E attenzione Curva destra 3 Si restringe Salto 60 Discesa Si restringe Sinistra 4 Lunga Si apre Si restringe Salto In destra 4 Lunga Si restringe Diventa 3 Non tagliare In sinistra 6 60 Salto Sinistra 5 Lunga 60 Sinistra 6 E destra 4 Lunga Non tagliare Salita Sinistra 6 Piccolo Salto Destra 6 E sinistra 6 100 Salita Intornante sinistro Intornante sinistro Destra 5 Lunga Cautela Sinistra 6 Crinale Stai al centro 100 Crinale 80 Sinistra 6 100 Attenzione Destra 2 Media Intornante sinistro In destra 6 80 Su Crinale Attenzione Destra 4 Non tagliare Stai al centro 100 Al traguardo Bel tempo Ragazzi Ho fatto 2 46 E sono riuscito A portarlo 2 43 Ragazzi Bel tempo Bel tempo L'altra cosa che volevo dirvi Essendo che non ha vinto nessuno È un pareggio Io corro sempre sulla stessa pista Ma anche con la Con l'Audi ragazzi Oggi Proviamo a fare la sfida Tra due modelli di macchina Tra la Peugeot E l'Audi E vediamo Chi farà Il tempo migliore Ragazzi Quindi Rialacciatevi le cinture Ragazzi Che partiamo Subito Subito Bombazza 5 4 3 2 1 Via Sinistra 6 80 Destra 5 80 Discesa Cunetta Affossamento Sinistra 6 Su crinale 60 Discesa Attenzione Destra 5 60 Discesa Destra 5 Non tagliare Poi attenzione Sinistra 4 Media Poi curva Sinistra 3 Lunga In destra 5 Non tagliare 60 Destra 6 Lunga Su crinale Sinistra 6 60 Sinistra 6 60 Destra 6 60 Sinistra 6 Crinale In destra 3 Lunga Attenzione Sinistra 5 Non tagliare Destra 4 Stai all'esterno 60 Su crinale Sinistra 4 Continua per 90 Attenzione Attenzione Destra 6 In subito Tornante Sinistro Salita Destra 4 E tornante Destro In sinistra 6 Crinale Crinale Punetta Destra 6 Su appossamento 60 Tornante Sinistro Intorno All'albero 100 Salita Tornante Destro Destra 6 Crinale 80 Sinistra 6 Media E attenzione Destra 6 Tornante Sinistro 80 Su crinale In crinale Possibile Salto Destra 6 60 Tornante Desco 150 Piccolo Crinale Sinistra 6 Lunga Crinale E attenzione Curva Destra 3 Si restringe Salto 60 Discesa Si restringe Sinistra 4 Lunga Si apre Si restringe Salto In destra 4 Lunga Si restringe Diventa 3 Non tagliare In sinistra 6 60 Salto Sinistra 5 Lunga 60 Sinistra 6 E destra 4 Lunga Non tagliare Salita Sinistra 6 Piccolo Salto Destra 6 E sinistra 6 100 Salita Intornante Sinistro Destra 5 Lunga Caudela Sinistra 6 Crinale Stai Al centro 100 Crinale 80 Sinistra 600 Attenzione Destra 2 Media Intornante Sinistro In destra 6 80 Su Crinale Attenzione Destra 4 Non tagliare Stai Al centro Centro Al Traguardo Un Ragazzi Che differenza Stravince la Peugeot Ragazzi Per una bellezza Di 12-13 secondi Circa Se non mi sbaglio Quindi GG E la Peugeot Ragazzi Credetemi Con l'Audi Ci ho provato Riprovato Ma Sarò io Che non sarò in grado Di guidarla Ma è una macchina Che non sono riuscito A interpretarla Benissimo Però comunque Il tempo L'ho fatto 18 secondi Al secondo Quindi C'è una bella distacco Tra me e computer Ragazzi Più di questo Non sono riuscito Ragazzi Comunque Ha vinto La Peugeot Ragazzi Io con questa Vi saluterei Ragazzi Grazie Per essere state In compagnia Del pallino 83 Vi ricordo Di lasciare Un like Un pollicione In su Iscrivetevi Al canale Attivate Nella campanella Per ricevere Le notifiche Iscrivetevi Anche su Instagram Ragazzi Il pallino 83 Comunque Troverete Tutti i link In descrizione Sotto il video Ragazzi Un bacione A tutti quanti Ciao Ciao Ciao